Tutti i bambini devono essere messi nelle condizioni di poter avere un'adeguata istruzione. Una povertà di tipo educativo crea le basi di povertà economica successiva. Con questi presupposti, il governo e le fondazioni di origine bancaria, rappresentati dall'ACRI, hanno siglato un protocollo di intesa per il contrasto della povertà educativa minorile. A tal proposito, sono stati messi in campo due bandi, prima infanzia e adolescenza, che avranno a disposizione 115 milioni di euro. Attuatore del fondo è l'impresa sociale con i bambini interamente partecipata dalla fondazione Conil Sud. La fondazione Crupa ha contribuito al raggiungimento della dotazione finanziaria messa a disposizione. Si tratta di una iniziativa unica per ora nel suo genere e che riguarda la povertà educativa minorile. Ecco, questo è il punto e quindi attiene il progetto sia alla scuola, ma sia anche a tutto il sistema del welfare, al quale noi facciamo riferimento spesso nelle nostre iniziative, perché si tratta di dare un contributo, un sostegno a quella parte più debole, più fragile, che sono i bambini, i ragazzi, che non sono nelle condizioni di poter attingere a tutti gli strumenti che consentano loro di trovarsi in una posizione competitiva col mondo e comunque in linea con tutti gli altri ragazzi. Lo stesso governo, lo stesso Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Economia, sono interessati ad utilizzare questa idea delle fondazioni come sperimentazione per verificare la percorribilità di ipotesi alternativa a quella che è l'attività educativa che compete essionalmente allo Stato, alle Regioni e ai Comuni. Tutti i bambini devono essere messi nelle condizioni di poter avere un'adeguata istruzione. Una povertà di tipo educativo crea le basi di povertà economica successiva. Con questi presupposti, il governo e le fondazioni di origine bancaria rappresentati dall'ACRI hanno siglato un protocollo d'intesa per il contrasto della povertà educativa minorile. A tal proposito, sono stati messi in campo due bandi, prima infanzia e adolescenza, che avranno a disposizione 115 milioni di euro. Attuatore del fondo è l'impresa sociale con i bambini interamente partecipata dalla fondazione Conil Sud. La fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone ha contribuito al raggiungimento della dotazione finanziaria messa a disposizione. Beh, intanto devo dire che qui si tratta di una intesa che abbiamo raggiunto a livello nazionale, quindi l'ACRI con il suo presidente, l'avvocato Guzzetti, ha raggiunto un'intesa a livello governativo, sì da inserire nella manovra finanziaria, anche una parte che riguarda proprio questo bando. Si tratta di una iniziativa unica per ora nel suo genere e che riguarda la povertà educativa minorile. Ecco, questo è il punto. E quindi attiene il progetto sia alla scuola, ma sia anche a tutto il sistema del welfare, al quale noi facciamo riferimento spesso nelle nostre iniziative, perché si tratta di dare un contributo, un sostegno a quella parte più debole, più fragile, che sono i bambini, i ragazzi, che non sono nelle condizioni di poter attingere a tutti gli strumenti che consentono loro di trovarsi in una posizione competitiva, ecco, col mondo e comunque in linea con tutti gli altri ragazzi. Quindi povertà educativa a 360 gradi. Esattamente. E qui stiamo sperimentando, oggi verranno presentati i primi due bandi che sono stati lanciati di recente e che vanno a scadere a gennaio, i due bandi che riguardano due fasce d'età. La prima praticamente da 0 a 6 anni, la seconda da 11 a 15 anni. E credo che questo sia un grosso segnale che mandiamo a tutto il mondo anche del volontariato che c'è nella nostra regione, volontariato sociale, volontariato scolastico, e perciò qui sono coinvolti in primi le scuole, ma poi anche tutto il mondo, il forum del terzo settore. Un modello che secondo lei è esportabile, visto anche la portata. Beh, questo è un grande progetto, perché il bando, come verrà illustrato a breve, credo che chi sa più di me potrà dire meglio. Ci sono bandi che sono riservati a livello locale e quindi anche per la dimensione, per l'entità dell'importo, possono essere affrontati da singoli soggetti locali e quindi si ferma nel nostro territorio, mentre altri progetti possono avere anche una visione molto più ampia di carattere nazionale. Quindi, voglio dire, qualche istituzione locale può raccordarsi su alcuni progetti importanti anche con altre realtà che si trovano in Sardegna, anziché in Puglia o in Campania, eccetera. Quindi c'è una sfida in questo senso che noi crediamo vada lanciata proprio per combattere questa povertà minorina. Ecco, dottor D'Agostini, mi correga se sbaglio, è vero che quando la Fondazione si muove fa da traino anche altri enti privati che intervengono su determinati argomenti? Beh, noi abbiamo un po' l'ambizione di effettuare anche questo tipo di lavoro, anche di stimolo per altre iniziative. Quindi tante volte serve più che altro non tanto le risorse economiche che pure ci servono. Serve invece creare le condizioni per lavorare assieme ed è indispensabile proprio in questo caso, non solo in questo, ma soprattutto in questo, è importantissimo che ci sia il coinvolgimento di altre istituzioni che fanno capo al volontariato, alla scuola e agli altri sistemi educativi, diciamo, di base. E tutto questo, ripeto, rientra in quello che per noi è il nuovo welfare di comunità al quale stiamo guardando anche per altri interventi che stiamo da un paio d'anni a questa parte stiamo effettuando sul territorio. E in questo senso appunto il territorio, anche il nostro, deve crescere, anche se ha avuto sempre questa grande vocazione nei confronti appunto del welfare. Il volontariato è sempre stato molto attivo. Sì, vanno cambiati un po' i paradigmi perché finora il welfare veniva inteso in senso risarcitorio magari nei confronti di alcune realtà più deboli, meno difese. Noi intendiamo invece sviluppare come sistema ACRI un welfare che si chiama appunto di comunità, nel quale ogni soggetto della nostra comunità per quello che ha, per quello che dispone come mezzi economici, mezzi, le intelligenze, delle disponibilità fisiche, temporali, eccetera, e mettere tutto assieme a questo per creare un sistema di stare meglio. Il welfare vuol dire proprio stare meglio. Quindi questo è il senso delle iniziative che stiamo sviluppando a livello nazionale. Fondazione per il Sud è il soggetto attuatore proprio di questo protocollo, di questa iniziativa. Vogliamo scendere nei particolari, dottor Martina? Allora, in realtà, precisiamo, l'impresa sociale con i bambini è il soggetto attuatore interamente partecipato alla Fondazione con il Sud. Il fondo viene messo a disposizione per una durata momentaneamente di tre anni, si spera sicuramente in una durata molto più estesa e prevede per questo primo anno una disposizione finanziaria pari a 115 milioni di euro, messa a disposizione su due bandi, come anticipavano, come diceva il Presidente, uno rivolto alla fascia di età 0-6, quindi prima infanzia, l'altro alla fascia 11-17 per l'adolescenza. L'obiettivo, in un caso, è quello di rafforzare, integrare e offrire maggiori servizi ai bambini in questa fascia di età e alle loro famiglie. Nel secondo caso, quello dell'adolescenza, l'obiettivo è quello di prevenire la dispersione scolastica e contrastare l'abbandono dei ragazzi dell'abbandono scolastico. Già, ci sono delle indicazioni sul modus operandi? Certo, allora, i bandi sono divisi in due fasi. La prima fase che andrà a scadere tra poco più di un mese per il 16 gennaio per il bando prima infanzia, 8 febbraio per il bando adolescenza, prevede l'iscrizione online dei soggetti che intendono presentare un'idea progettuale. Il formulario è interamente online, predisponibile online e bisognerà essere almeno in due soggetti. Ci sarà un capofila e ci saranno dei soggetti del partenariato. I soggetti del partenariato potranno appartenere a qualunque settore, quindi al mondo delle istituzioni pubbliche, al mondo anche delle aziende, del profit, purché apportino competenze e non facciano ricerca di profitto, mentre il soggetto responsabile chiediamo che sia un soggetto privato del terzo settore, quindi parliamo di associazioni, di volontariato e non cooperative sociali, consorsi cooperative sociali o scuole del sistema nazionale di istruzione. Al momento avete già un'idea praticamente di quelle che sono le necessità, vi hanno già posto dei quesiti? Beh, c'è molta aspettativa sicuramente, questo ha generato tantissima curiosità sull'intero territorio nazionale, anche di soggetti che precedentemente non erano abituati a una progettazione così strutturata e le esigenze quindi sono per lo più di natura tecnica, sulla natura, sul numero dei soggetti ideali da coinvolgere, sui territori da andare a colpire in qualche modo, diciamo, per questo noi abbiamo istituito comunque un numero dedicato di assistenza presso l'impresa sociale con i bambini e tutte le informazioni saranno rese disponibili sull'apposito sito pagina internet che se possiamo dare l'indirizzo è www.conibambini.org Quanto è importante anche per il mondo del volontariato un segnale come questo che arriva dalla fondazione Crup e tra l'altro la fondazione non è nuova a lanciare dei segnali a sostenere iniziative importanti Ma due cose penso la prima questa attenzione ai giovani all'educazione delle nuove generazioni che è un tema molto sentito da tutti e quindi il fatto che anche la fondazione dia un contributo di questo tipo è importante proprio come stimolo a aumentare questa capacità che abbiamo tutti insieme di accompagnare la crescita delle nuove generazioni che in questo momento è sicuramente sentita una cosa di massima importanza l'altra questione è il fatto che si promuova nell'ottica del welfare di comunità che è uno dei temi che recentemente le fondazioni stanno proponendo un approccio nuovo ai problemi sociali quindi non più soltanto una logica diciamo di assistenza di intervento diretto sui problemi singoli ma una logica di promozione della comunità della rete di relazioni nel territorio allora anche questa idea applicata al superamento delle barriere che impediscono ai ragazzi di essere risorse educative è importante non più solo diamo il contributo alla famiglia perché mandi figli a scuola ma piuttosto aiutiamo la comunità a diventare più capace di essere inclusiva attenta a tutti i ragazzi e di non perdere per strada nessuno e anche in questo ambito il vostro compito è difficile perché va cambiato appunto come diceva giustamente lei l'approccio l'approccio al welfare sì il volontariato e più in generale il terzo settore è molto caldo su questa idea questa linea perché il volontariato nasce proprio dalla libera iniziativa dei cittadini che dal basso si attivano proprio partendo dalle comunità dai luoghi dove i problemi e le questioni sociali si attivano quindi certo è una sfida quotidiana che l'associazionismo il volontariato le cooperative tutti i giorni accolgono su cui lavorano tutti i giorni è un ruolo difficile sì perché siamo in un momento comunque in cui c'è una povertà crescente c'è un aumento delle richieste c'è una disgregazione sociale molto forte ci sono dei dei fattori anche che diventano educativi che portano in un'altra direzione il centro commerciale per dirne una ma non per parlare male dei centri commerciali ma a titolo di esempio di una società che in fondo chiama in un'altra direzione allora certo come volontariato del terzo settore siamo in prima linea ma impegnati ma ci siamo insomma e se volentieri collaboriamo con la fondazione questo tipo di azioni che sono coerenti con il lavoro che facciamo di un'altra direzione 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 di un'altra direzione